FileMaker è una potente piattaforma e lo vedi dalla grafica accattivante delle soluzioni progettate in FileMaker. Per quanto possa essere descritto facile da usare e di innovazione sul luogo di lavoro, l'utente in ovizio potrebbe ritrovarsi subito smarito. Ciao, sono Aresi dell'APA e in questo video condivido con te alcune delle fonti che ho trovato utile per l'apprendimento pratico di FileMaker. Al primo posto abbiamo Espero.it, partner di FileMaker, centro di formazione di eccellenza, propone corsi FileMaker per tutti i livelli. Al secondo posto FileMakerGuru.it che è un ricchissimo blog e dei video tutorial su FileMaker. Al terzo posto e non per questo il meno importante, anzi, il sito ufficiale di FileMaker che ha un'ottima sessione dedicata ai video tutorial purtroppo solo in lingua inglese. Se l'inglese è la tua bestia nera e vuoi comunque approfittare di quei video tutorial, seguimi su Macrares.it oppure su YouTube dove condivido con te dei tutorial che ho seguito in lingua inglese che poi ho tradotto e adattato in lingua italiana. A presto!